Miei carissimi milanesi, Milano è una città sicuramente di grandi artisti, di grande musica e di grandi storie. Poi tu puoi anche fare una cosa, mettere insieme questi tre fattori e creare magari un bellissimo progetto, oppure essere l'ospite. Che qui con noi a quest'oggi sto parlando di Folco Orselli. Sigla! Miei carissimi milanesi, ben ritrovati con Folco Orselli. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Benvenuto a Folco Orselli, grande artista milanese. La tua voce, inconfondibile, è legata sicuramente proprio alla musica di Milano. C'è poco da fare. Sì, ho questo imprinting, sono nato a Milano, sono un milanese, mio padre è da Toscano, mi ispira moltissimo questa città da sempre. Ora appunto mi ispira anche in altri percorsi che esulano anche soltanto dall'aspetto musicale. Eh sì, perché sei diventato un produttore cinematografico, regista, attore, tutto tu fai... Mi sono dato al cinema, diciamo. Fatti, meglio che darsi all'ipica, come si diceva una volta, no? Sì, mi sono vicino, tra l'altro, sarebbe anche comodo. No, sì, ho deciso di me di percorrere insomma un viaggio lungo i confini della città attraverso questo linguaggio che è il cinema, legato però alle periferie, ai quartieri, ai giovani artisti che vivono lì. Diciamo che quando sono arrivati ai soldi di 50 anni ho deciso di dare una mano ai giovani folchi che vivono nei quartieri per dargli una possibilità, insomma, cercare di restituire un po' quello che questa città mi ha dato. Ecco, chi sono questi giovani folchi che appunto... Non bifolchi, ma folchi e basta. No, folchi poi me lo dicevano dagli elementari. Perché andavano a casa i bambini dal padre e mamma, c'è un bambino che si chiama folco, abbi folco e quindi tornavano. Ah, ecco, vedi. I bambini sono un po' bastardi, ma i genitori peggio. Io ero più bastardi di loro, eliminavo. Dunque, i giovani folchi chi sono? Questo progetto è dedicato agli artisti appunto in generale perché credo che gli artisti siano costretti ad una visione, costretti tra virgolette, per cui ho deciso di dedicarmi a loro perché credo che possano essere da esempio agli altri giovani che, sai, in questo periodo c'è un po' un casino, post-covid, non sanno se non lavorano, non studiano e forse era un modo per dare un esempio, insomma, per far sì che questi ragazzi possano mostrare una via a chi ancora una via non l'ha trovata. E sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi... Io mi sto dedicando a tutte le arti, non solo la musica, la musica, ma anche la danza, il teatro, la letteratura e quindi c'è un sacco di ragazzi e ragazze che hanno molto da dire e soprattutto sono coloro che dovranno mostrarci o comunque interpretare la città del futuro per cui è molto importante ascoltarli ora, cercare di capire. Intercettarli, no? Intercettarli, anche perché esiste veramente, mi sono accorto, una cesura tra le generazioni, molto profonda secondo me viene da lontano, viene da una generazione ancora prima della mia ovvero coloro che poi si sono poi autodefiniti da meglio gioventù, insomma il 68 è vero che in quel periodo c'era un grande fermento eccetera però diciamo che quel testimone, quell'epoca che loro hanno vissuto, se l'ha solo un po' tenuto quel testimone non l'hanno né restituito a noi né noi non abbiamo potuto darlo a questi ragazzi per cui loro, questi giovani, se ne sono costruiti un po' tutto loro che è molto diverso da quello che è è molto difficile a volte, non solo intercettarlo, anche solo capirlo cioè è un mondo, immagino che tu sei partito con un'idea e credo che poi quando hai scoperto cosa c'era hai dovuto anche rivedere un po' i tuoi preconcetti le tue idee che magari avevi su questo mondo delle periferie che poi ricordiamo, ti do questo dato, magari lo sai già cioè le periferie sono l'80% della città cioè noi calcoliamo quant'è la periferia, sono l'80% della città insomma vuol dire dedicarsi alla maggioranza delle persone infatti vuol dire in realtà, come sempre, ah no, quelli che sono ai confini cavolo, perché poi no no, io sono arrivato pieno cioè pieno di curiosità ma anche mi sono accorto di pregiudizi perché dunque alla fine il mio rapporto con i ragazzi è non è dal punto di vista, e questo è fondamentale non deve essere dove porsi in modo paternalistico perché se loro si chiudono immediatamente sono molto diffidenti io invece mi rapporto con loro da collega io faccio musicista, faccio cantautore insomma, per cui loro e c'è un grosso lavoro precedente al film a quello che poi succede durante il film cioè conoscerli, cercare di capire e conquistare la loro fiducia infatti sono stato in giro con loro, le loro compagnie mi hanno presentato gli amici vabbè la prima puntata è stata più semplice è baggare la musica per cui io conoscevo la questione ho cercato, ho individuato questi tre ragazzi due ragazzi e una ragazza di culture diverse che poi Lusimi, quartiere identità di Milano si titola così questo film vuole mettere insieme diversità apparenti che messe insieme creano un valore aggiunto per cui diversità di cultura, diversità di quartiere diversità di stili artistici ho trovato questi due ragazzi e una ragazza egiziano, filippino e una ragazza italiana e abbiamo fatto un pezzo che mettesse insieme tutte queste queste apparenti diversità appunto e piano piano insomma ho scoperto che si sono lasciati andare poi li ho portati in studio gli ho fatto vedere come si fa la musica perché io parto dal blues per cui gli strumenti i fiati, il pianoforte, l'emmon e loro sono entrati in questo studio un po' come degli aborigeni perché per loro fare musica abituati al sintetizzatore al sample e quindi abbiamo fatto queste esperienze insieme e siamo diventati anche amici per cui ogni tanto questa è la prima puntata diciamo è un film a puntate a cinque puntate prima dedicata alla musica la seconda quest'altra che abbiamo appena diciamo concluso la prima parte è dedicata alla danza e agli sport di periferia abbiamo fatto una parentesi anche con lo sport per cui abbiamo tramite anche i nostri partner media partner tipo IGP Deco abbiamo fatto che sono quelli che mettono pubblicità in metropolitana abbiamo fatto un casting in tutte le metropolitane e abbiamo trovato questi 14 7 ragazzi e 7 ragazze che fanno che praticano stili di danza diversi hills dance, hip hop classica, contemporanea e altri 3 ragazzi che fanno skateboard monopattino freestyle e parkour e questi qua saranno il cast saranno poi i protagonisti del film però adesso li abbiamo intervistati su 7 temi importanti della città felicità, sicurezza, integrazione gli abbiamo chiesto di fare una domanda al sindaco di dare un consiglio ai coitanei che non lavorano e non studiano gli abbiamo chiesto se Milano è una città internazionale l'abbiamo fatto a 7 puntate e sono andati su Corriere TV e su tutti i nostri social è stato molto bello hai risposto anche tu alle 7 domande? sì io dopo che cerco di rispondere che risponde ti sei data? ad esempio questa città tutti dicono che è una città insicura è così insicura? ma dunque le grandi città portano con sé sempre questo aspetto per cui è inutile pensare che questa cosa non possa coinvolgere anche Milano naturalmente c'è una certa diciamo politica che quando arrivano i momenti elettorali soffia sul fuoco della questione per cui non credo sia più più insicura di altre città ora abbiamo il nostro super poliziotto Gabrielli che vedremo che sembra un po' tutto un fumettone sì perché tutto padaccio dal fatto che non è Gotham City però poi alla fine si fanno le cose come Gotham City quindi anche i Club Dog l'hanno preso come simbolo per lanciare il loro nuovo tour quindi le cose sono molto sempre complesse la sicurezza legata all'integrazione insomma siamo una città in movimento costretta poi voglio dire da essere diciamo la locomotiva d'Italia quindi incarniamo un po' tutti i pregi tutti i difetti quindi è molto molto complessa la cosa io credo che appunto dedicarsi ai ragazzi sia un modo per cercare di investire sul futuro anche su questi argomenti cercare di capire come la pensano loro eccetera scopriamo un po' di più su questo Folco Folco Selli nasce nel 71 giusto? a Milano a Milano che zona sei nato? sono nato in stazione centrale fuori dalla stazione centrale fuori dalla stazione centrale via Gluck è l'aria è l'aria allora di lì che poi fa diventare la stazione è un posto sempre in movimento per cui c'è sempre un sacco di cose da prendere e com'era il giovane il piccolo Folco Orselli il piccolo Folco Orselli cosa dicono le colaca dell'epoca cosa dicono? dicono che si poteva girare molto di più almeno si girava da soli anche a 7-8 anni andavo a scuola da solo alla Galvani che era di vicino poi avevo i miei luoghi di come dire di formazione culturale che erano le Varesine il Luna Park quindi andavo sempre ero molto solitario da piccolo anche se poi avevo un stacco di amici però mi piaceva stare da solo andavo alle Varesine andavo al al museo delle Cere alla stazione centrale che mi piaceva tantissimo fuori c'era tutto questo movimento della stazione gente treni che partono gente che si salutano e dentro l'immobilità assoluta mi piaceva da piccolo vivere queste sensazioni ed era un ragazzo curioso un bambino curioso insomma che si aggirava era una città molto più vivibile naturalmente più a portata di bambino anche appunto si poteva andare in giro da soli ripeto e nessuno non c'era nessuno che si preoccupava così tanto come l'ansia e la passione per la musica come arriva? era una cosa che c'era già in casa l'hai provato tu? come funzionato? la musica era molto in casa soprattutto da parte di mia sorella e mio fratello che erano più grandi di me e sono più grandi di me ancora e quindi io sono cresciuto con un sacco di influenze di stimoli musica americana più che altro ma anche i cantautori si dividevano bene mio fratello e mia sorella mia sorella era più psichedelica mio fratello un pochino più vicino all'Italia per alcuni versi tu sei stato un ragazzino negli anni 80 il rischio di finire a fare il Paninaro era dietro l'angolo e invece si è venuto a fare il Blues Brothers come è successo? come questo amore per il blues invece che per i Duran Duran magari ti piace anche i Duran Duran non lo so mi piacevano anche i Duran Duran mi piacevano anche gli Spandau mi piaceva la musica diventico sempre gli Spandau mi piacevano facevano delle belle canzoni in fondo visto quello che c'è ora nel senso vorrei capire questa cosa perché molti dicono così all'epoca no ma adesso vabbè visto il cosiddetto di poi con quello che c'è adesso è un po' vero purtroppo purtroppo è vero noi eravamo più giovani ci piaceva di più per quello forse anche poi sai la musica è anche un aspetto di appartenenza poi io sono curioso di sapere com'è che sei passato al blues cioè com'è che sei arrivato al blues perché in casa mia si sentivano Clapton B.B. King mi aveva colpito questo linguaggio poi ho cominciato a suonare non prestissimo avevo avuto 14-15 anni perché vedevo mio fratello che suonava questi pezzi di Neil Young sulla spiaggia adesso non sembra una battuta ma è vero e c'è tutte le ragazze intorno io ho detto ma spiegami un attimo questo aspetto come funziona come funziona svellami e poi io mi sono come dire così appassionato a questo genere che è apparentemente molto semplice ma in realtà non supporta la menzogna perché il blues lo ascrivo diciamo la categoria dei sentimenti anche non soltanto la categoria di un genere musicale quindi mi affascinava molto questa capacità di supportare anche le storie da raccontare perché le mie canzoni blues sono delle storie e quindi da lì è un po' partito anche il mio modo di scrivere che è sempre stato legato a questo quando è che hai capito che appunto non era solo un suono BB King suono Clapton ma aspetta ho delle cose da dire le metto giù è una cosa che si scopre piano piano naturalmente io ho ancora dei diari delle cose in cui scrivevo le mie prime canzoni terribili quanto ti vergogni di quello che hai scritto all'inizio tantissimo direi ogni tanto le rilego e dico vabbè però era anche un modo così ingenuo di conoscere di cominciare a conoscere non è facile tirare fuori anche ora io sento tantissimo la finzione nell'80-90% delle canzoni e capisco che quel lavoro non è stato fatto in fondo di andarsi a cercare anche da parte di chi lo dovrebbe fare per mestiere in qualche modo però applicano dei cliché a parte di canzoni che rimeghi del tuo passato che non le andiamo a scoprire non le troviamo da nessuna parte no le hai già fatto piazza pulita no se qualcuno non conosce Folco Orselli dice ma devo iniziare la prima canzone che devi ascoltare di Folco Orselli per capire con chi ha che fare allora io per adesso ho due vite diciamo la prima è stata si chiamava Caligola ed è stato un progetto che ho portato avanti con un mio amico cantautore che si chiama Fabiano Veronesi cantautore un chitarrista e siamo andati a Sanremo abbiamo fatto delle bellissime cose parlo del 1995 abbiamo fatto il tour di Tina Turner in Italia da spalla con D'Alessandro Galli con una band strepitosa l'album è il sole che respira il sole che respira esatto e quello è l'inizio del mio scrivere in italiano diciamo che è stato un modo perché insomma non è facile imparare io poi sono venuto su appunto con tanta musica inglese anche da Alla De André i cantautori però ero influenzato da quello e quella è la prima parte poi dopo mi sono ammalato di un personaggio che si chiama Tom Waits che è entrato nella mia vita come un trattore un Caterpillar già Dylan e appunto Neil Young però Waits mi ha proprio per un periodo così proprio aperto in due e ho capito mi sono avvicinato al modo del blues di suonarlo anche un po' jazz mi sono andato al pianoforo diciamo c'era questa voce un po' la Tom Waits si poi dopo a furia di farla mi sono fatto del male poi è venuta e in seguito era già così insomma poi è chiaro che la voce è uno strumento quindi la blu poi distorcere lo puoi utilizzare alto che autotune qui è la distorsione più più intima quasi quindi non lo so qual è la canzone diciamo che un album a cui sono molto affezionato si trova La Spina è un album del 2004 e fa parte diciamo della mia ricerca di mezzo è una canzone potrebbe essere dai facciamo la canzone che che ha vinto poi io sono stato come scaiola iscritto la mia insaputa ad un festival con il resto gli avevano legato la casa a me mi hanno iscritto che era musicultura nel 2008 e perché a quel prete tempo il mio produttore aveva deciso di io ero contrario a fare queste cose per cui mi sono iscritto e la canzone si trova l'amore ci sorprende che è una ballad piano e voce e archi e ho vinto tutto ho avuto fortuna diciamo mi hanno dato tre targhe io appunto che non ho neanche la macchina come ti dicevo prima usare per il motorino nemmeno il motorino per cui vado a piedi con i mezzi ma contro il targhe ma contro il targhe contro il targhe sotto il braccio è una bella soddisfazione personalmente ad esempio mi piace molto anche l'inoromia che metti spesso in alcuni pezzi per me pezzare maciacchini ecco quello fa già parte di una parte quella per me ancora più amante cioè è un senso di vita non so come dire proprio si si chiunque Annacci lo diceva lo diceva in modo amaro diceva è stato tutto inutile cercare di far capire che è sulla vita che si scrivono le canzoni invece non è stato per niente inutile perché questo è un altro Enzo Iannacci uno dei miei maestri e piazzare maciacchini insomma è la storia dell'antimo vida nel senso il concetto di Milano poi con tutto questo week la week all you can week all you can week e invece forse per trovare la vita vera bisogna andare in periferia fuori piazza e allora ti faccio le domande così a Raffiga su Milano su questioni che magari non hai neanche un'idea poi chiedimi non me ne frega niente cioè nel senso questione stadio di San Siro no ne ho idea anche perché sono un interista fervente interista sono sono d'accordo col fatto che andrebbe mantenuto in vita forse bisognerebbe rivedere un po' quello che c'è intorno più che altro perché vogliamo tutto questo green e le cose va bene sta spianata intorno facciamola diventare più bella ma sono assolutamente del parere che bisogna tenerselo le piste ciclabili le piste ciclabili Milano è una città piccola una città che ha portata di bicicletta è una questione culturale anche questa dobbiamo probabilmente passare un periodo in cui ci sarà la guerra tra gli automobilisti e i ciclisti ma la vedono assolutamente una questione positiva nel senso dobbiamo sfruttare una città piatta una città piccola appunto credo che piano piano questa cosa entrerà nella cultura mianese le olimpiadi le olimpiadi invernali sì infatti le olimpiadi bello sono contento beh naturalmente questa cosa ha dato un'ulteriore sferzata rigenerativa palazzine cose ha rimesso in moto tutto speriamo che il tutto venga governato con intelligenza e che non rimangano poi queste situazioni di post queste cattedrali strane nei deserti che ogni tanto questi grandi eventi portano con sé però credo che sia una cosa positiva Milano come dicevo prima è destinata a grandi progetti purtroppo o per fortuna non lo so però ci tocca anche dire di sì a queste cose gli scioperi dei mezzi gli scioperi dei mezzi credo che ci siano dei buoni motivi per scioperare sempre non sono assolutamente convinto che la questione del venerdì eccetera se la stiamo facendo come dire la settimana corta la settimana corta mi sembra veramente una polemica stupida vorrei vedere forse come ci succede in altri paesi se veramente le questioni sono così importanti allora scioperate di più non un giorno alla settimana provate a mettere lo sciopero sarebbe anche per mettere in crisi io la vedo così se vuoi ottenere qualcosa il famoso è stato a Berlino che hanno fatto uno scioperi che ho durato cinque giorni insieme a cose del genere allora a quel punto forse ti danno retta tu ne fai tante le interviste racconti spesso tutto quello che fai qual è la domanda che ti fanno sempre che però tu dici ma perché me la fate non voglio rispondere a queste domande non perché me la fate no no non ce ne sono devo dire la verità non ho questo problema non ho niente da non fare paura non avere è il mio moto per cui non ho nessun problema a rispondere a nessunissima domanda e quello che magari invece ci scappano intervistatori ogni tanto che magari non ti facciamo la domanda giusta che dice ma perché ogni volta ma non mi chiedono quella cosa lì che io vorrei raccontare ma guarda poi io sono abituato a fare le interviste per cui se non me lo chiedono lo vado io direttamente vado sul tema per cui se c'è una cosa che mi dice sai come funziona no? dice ma hai fatto questa domanda ma mi è venuto in mente e tac e c'è la picchi dentro quindi non c'è un tema particolare no 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 torniamo invece a questo giro che stai facendo appunto nella periferia nella città anzi che poi periferia è solo perché è intorno alla città ma poi appunto è la parte più viva anzi verrebbe da dire hai scoperto stai scoprendo tanti artisti sia musicali mi dicevi anche però nella danza nello sport anche hai detto sì negli sport di periferia mi sono dedicato a quelli più urban diciamo il parkour lo skateboard e dove nascono tutte queste anime che animano che scusate il gioco di parole che animano perché mi viene a dire non ci sono dei punti ormai più mi viene a dire anche il centro sociale classico di una volta viene meno guarda uno dei nostri testimonial primo è stato Ernia per esempio infatti gli ho chiesto proprio questo gli ho detto ma i ragazzi adesso cosa fanno e lui mi ha risposto si sentono sul gruppo di whatsapp ma come in che senso è perché mi dice noi quando eravamo giovani insomma ci troviamo nei parchi perché Ernia dice noi quando eravamo giovani adesso sono a 26 infatti non è che vabbè quando ero giovane io mi dice ci troviamo nei parchetti le cose adesso non vedo più nessuno in effetti devo dire che questa questione più generalista allora si è tutto come dire algoritmizzato anche dal punto di vista vero cioè chi fa una cosa sta insieme nel suo gruppo tra i rapper stanno tutti con i rapper quelli che fanno la danza stanno con quelli che fanno la danza quelli che non fanno niente sono un po' sperci ecco perché non c'è poco non c'è ritrovo hai detto una cosa interessante hai detto ci trovano sempre sul gruppo di whatsapp però quel nostro dire sempre sono sempre lì col cellulare davanti sono sempre lì a fare niente anche lì non è una lettura sbagliata di quello che stiamo vedendo però praticamente sono lì che si organizzano appunto per fare magari poi il disco dell'anno o la dance hall della settimana sì ma infatti chi ha una una visione cioè nel senso per questo che io mi rivolgo agli artisti perché è una perché loro appunto sono costretti ad avere una visione per cui chi ce l'ha anche la tecnologia la usa in una forma diciamo attiva non la subisce mentre invece è un pochino quando la tecnologia subisce il tuo interesse cioè sostituisce scusami il tuo interesse perché è il lato scuro della forza per usare in qualche modo una metafora cinematografica visto che facciamo questo tema qua e allora lì va a riempire anche i tuoi momenti di come dire di noia in cui che sono assolutamente importantissimi proprio per cercarsi per trovarsi per cui bisogna bisogna vedere chi ha degli interessi la usa in un certo modo chi non ne ha la subisce e rischia l'isolamento perché poi c'è un ossimoro che è questa come dire assoluta solitudine sociale no? sei social quindi comunque dalla parte esiste questa cosa non siamo solo noi che ci racconi c'è questa solitudine c'è è un problema enorme è un problema enorme la rivoluzione digitale ci ha gettato in una solitudine pazzesca cioè non ne siamo abituati questa rivoluzione che in 20-25 anni ci ha cambiato la vita se da una parte ho la possibilità di produrre il disco nella mia cameretta da solo esatto forse il problema è però che lo faccio da solo esatto è proprio questo cioè ci toglie dal contatto fisico-umano perché sostituisce come diceva appunto Ernia di loro e dice noi per vederci ma è induttivo è chiaro dobbiamo vederci in un parchetto a fare quello che si fa e si guardarsi in faccia invece adesso non è più e tu i tre ragazzi di cui parlavi li hai portati in uno studio vero quanti anni hanno loro? 20 anni quindi non erano mai entrati in uno studio di registrazione di quel tipo perché appunto per loro la loro cultura anche da questo punto di vista si fa si fa come noi quattro spugnette sul muro e un microfono avanti ed era finita il pop e ve lo mai si faceva così però loro non sapevano appunto che l'hip hop viene dal funk il funk viene dal blues c'è tutta insomma una filogenia per cui siamo parenti in questo senso e io l'ho dovuto raccontare e poi ci sono ecco questo secondo te li ha portati anche a fare con più consapevolezza quello che fanno adesso? si penso di si penso per esempio faccio un esempio Lokita che è la ragazza che ho scelto per cantare che adesso sta facendo la sua carriera l'ho sentita suonare cantare in un pezzo trap però a un certo punto lei fa con una voce fa uno sviso soul ho detto ma tu lo sai che hai quella voce si però mi piace si in effetti mi piace infatti nel pezzo che abbiamo fatto che si chiama neighborhood gli ho dato la parte più diciamo più melodica in quel senso e deve tirare fuori una voce pazzesca quindi questa cosa se la portano anche dietro insomma musica a Milano se è sempre fatta e se ne continua a fare vediamo appunto poi di che qualità c'è anche la qualità solo che il problema è che la massa critica ecco bravo questo ve lo capire mi hai anticipato appunto questo dicevo cioè quello che poi passa è che sembra che passi solo quello che non ha qualità però poi tu dici no qualità c'è io ho conosciuto gente che fa roba di qualità perché non riesce cioè veramente siamo tutti così beoti che vogliamo solo la roba cotta e mangiata non è questo secondo me dunque c'è un problema ritornando all'algoritmo molto importante nel senso che le case discografiche oramai a mio parere hanno abdicato al loro ruolo cioè di trovare talenti e di proporli loro ormai vivono secondo me nella tirannia della domanda ovvero con la tecnologia tu ora sai quante visualizzazioni fa una roba eccetera se arrivi a fare un milione e mezzo due milioni e mezzo ti fanno fare il disco punto anche se tu non hai niente da dire non importa per cui questa cosa ha un po' massificato tutto perché se nella mente dei ragazzi come è giusto che sia perché ogni generazione ha la sua filosofia musicale la sua cultura è solo trap avremo soltanto musica soltanto trap perché loro ascoltano quella l'algoritmo continua a fare numeri solo su quelli le case di produzione propongono quello e poi le case di produzione le case discografiche scudo poi esiste l'altra branca che è il pop che anche lì è sempre esistito ora abbiamo anche lì una sorta di come dire massificazione dei temi degli argomenti mentre invece c'è tutto un altro mondo che fa fatica che ha sempre fatto fatica forse però un tempo poteva contare anche sull'aspetto propositivo delle case discografiche uno come Giannacci o come De Andrè o come Gino Paoli se dovessero adesso gli dovrebbero andare a zappare che forse è meglio per cui però un tempo invece dicevano beh c'era chi sapeva capire che poteva essere un artista questo qui e infatti gli facevano fare quei famosi contratti di tre dischi primo ti dancio secondo devi affermarti in qualche modo e il terzo devi far successo ti davano anche il tempo una sorta di rampa esatto adesso invece tutto è così per cui ci becchiamo quello che ha fatto un pezzo gli è andata bene con una base un computer una cosa fa milioni di cose ma non ha nessuna esperienza non sanno fare capisci hai parlato dei tuoi maestri sì e che sono quelli vabbè che sono intoccabili effettivamente gli annacci cosa si può dire se non bene quando si dice lui si dice era una brava persona in quel caso sì è così Gaber appunto c'è tanti poi ci sei tu una tua generazione fatta di artisti che come dicevi hanno cercato di sgomitare quelli là e adesso ci sono quelli nuovi di quelli nuovi chi si può dire adesso i tuoi discepoli ma ripeto non perché abbia lavorato con me ma Ernia credo che sia uno bravo nel senso che ha fatto un disco che si chiama 68 che non è il 68 inteso come l'anno ma è la 68 la 68 e lo ascolterei molto volentieri poi questi ragazzi il cantautorato giovane non mi arriva cioè Calcutta quelli che non sono l'hip hop ma mi sembra una scimmiottatura cioè non lo so di un certo modo di scrivere che non mi arriva mi sembra che i temi che trattino evidentemente vi sto dicendo una cosa non giusta perché se hanno tutto questo successo un motivo ci sarà ma non arrivano a te hai detto sì sì infatti però credo che non ricalchino davvero le motività e le questioni vere e profonde dei ragazzi di oggi perché non sono soltanto queste cioè i ragazzi si devono riscoprire devono scoprirsi e riscoprirsi e le canzoni sono sempre state molto importanti per tutti cioè noi non abbiamo De Gregori non abbiamo Dalla adesso non c'è non c'è un Dalla giovane perché non è che sono più no perché non non paga sembra è brutto ma è così perché non ci sono le case discografiche che decidono di investire su uno perché i Dalla ci potrebbero anche essere anzi ci sono sicuramente ma non vengono a Galla non vengono fuori non vengono fuori questo è un dramma chiarissimo in tutto questo la musica milanese è un po' forse nene risente no? non sono più i nomi della musica un cantautore milanese quella scuola lì per esempio si sta completamente perdendo cioè nel senso la storia la scuola di Annacci Gaber Fo i Guffi cioè quel modo intelligente di essere ironici attraverso anche il jazz il blues il cabaret questa commissione che è la scuola milanese adesso c'è la stand up comedy adesso c'è la stand up comedy che è diventata una roba tutta molto volgare va bene ci sta nessuno sta a giudicare però ci vorrebbe anche il surreale ecco il surreale è credo una delle cifre della scuola milanese se vogliamo trovarne una e quella scuola lì purtroppo ci sta perdendo c'è da dire che il lavoro che io sto cercando nel mio piccolo di mettere a terra come si suol dire come dicono quelli bravi è proprio questo cioè cercare di passare a questi ragazzi il dato che questa scuola questo modo di immaginare di inventare è molto divertente è molto più divertente che stare lì a parlare della pistola del sesso buttato lì e fare i bulletti c'è molto di più nella vita da analizzare io non vorrei che forse la vita sia diventata così surreale quella reale che fai fatica poi a inventarti qualcosa della canzone ma no io credo che la vita sia continuamente piena di sorprese e di piaceri come di dolori di malinconie è talmente tanto ampio lo spettro che va analizzato e gli artisti cioè che hanno questo dovere devono avere anche come dire sentire il dovere di approfondire queste cose anche i giovani artisti ecco e anche tutto quello che sta intorno al mondo della musica cioè dovrebbero farsi un grossissimo analisi di coscienza quelli che stanno ai vertici perché ci stanno propinando un nichilismo che non corrisponde a quello che è veramente poi la nostra esistenza e vita per cui siamo in chiusura il tuo film allora dove possiamo seguirlo come sentito dove possiamo seguire tutto quello che stai facendo perché non è solo anche lì il film non è più ormai vado al cinema guarda un film e seguo tutta una storia che c'è prima durante e dopo certo allora noi abbiamo tutti i nostri social che sono blues in me blues in me mi sta come Milano mi e ti mi in inglese si dice in accordo blues in me quindi sui social lo trovate ci seguite sul Corriere della Sera perché il nostro media partner ci accompagna Anteo facciamo delle proiezioni questo progetto ha mille sfaccettature è sia filmico ma ha legato anche a tanti eventi sui territori quindi sui nostri canali comunichiamo tutto e ci vediamo in giro anzi intorno intorno va bene Folco grazie mille davvero della tua compagnia grazie della tua musica grazie adesso di tutta l'arte che stai mettendo anche nella nuova veste appunto di regista di parla l'arte e la metti da parte ma tu ne stai parlando tante non la metti da parte ma la metti per tutti noi infatti mi è chiesto milanesi grazie a Folco Orselli grazie anche a voi che ci avete seguito alla prossima grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi